In occasione della giornata internazionale dei musei sabato 18 maggio, il comune di Sansepolcro è lieto di presentare due eventi imperdibili dedicati alla celebrazione dell'arte e dei suoi illustri protagonisti locali. Si comincia alle 16.30, la casa di Piero della Francesca ospiterà un evento speciale dedicato all'arte del grande maestro della prospettiva, l'autrice Patrizia Fazzi, leggerà le poesie tratte dal libro La Conchiglia dell'Essere, di cui è autrice, dedicata alle opere del maestro, offrendo una prospettiva unica e lirica del suo straordinario contributo artistico. Si prosegue con l'apertura straordinaria del Museo Civico e la visita guidata a Magistri de Burgo alle ore 21. Il museo aprirà le sue porte per una visita guidata speciale intitolata Magistri de Burgo. Questo evento sarà un'occasione unica per scoprire la maestria degli eccellenti figli del Borgo, tra cui il grande Piero della Francesca, Luca Pacioli, Francesco del Borgo, Niccolò Aggiunti e molti altri. Il biglietto per l'evento è compreso nel costo dell'entrata alla casa di Piero.